Credo che questo sia importante e sottolinearlo in questa sede e fortunatamente non voglio sottrarre la domanda sull'armi in Moschera. L'amministrazione ha detto, e io lo dico anche in questa sede, che occorre una legge nazionale per creare condizioni perché possano esserci luoghi in culto come le Moschee, pienamente riconoscete anche nella nostra città. E quindi questo è il motivo per cui in questo momento questa amministrazione ha preferito tenere questa posizione rispetto alla Moschera.